Non è cosa? Non è cosa? Qua? Ah, vado! Per fortuna che voglio che balleste! Come sta? Giuseppe, io non ce la faccio più, stiamo girando da giorni! Guarda che sono lì, eh! Maria, non è che io ci sto mettendo l'impegno, ma qua non c'è una grossa l'orizzonte! Non so! E che devo fare, almeno è che sono tutti occupati! Com'è che si chiama questo paese? Betlemme! Betlemme! La prossima volta prenotiamo, eh! Sì, non mi piace! Buongiorno! 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 Chiediamo a questo, aspetta, aspetta, aspetta! Chiedo scusa! Salve! Ricca! Senta, non ce la facciamo più su due giorni che stiamo camminando io e mia moglie, volevo un posto per noi due! E in questo periodo? Siamo sottonati all'esterno! Mi scusate, tutto è saurico! Anche le due grotte che noi affittiamo a parte! Occupate proprio! Vabbè, però scusate, la mia donna è incinta! E io che centro? Tu! Perché io centro qualche cosa? No! Nel senso... Provate un motelaggio, perché sta più avanti! Se l'ha detto adesso... Provate un motelaggio! Provate un motelaggio! Ehi! 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 Ehi!